Ciao Paolo, è domenica sera qui in Nuova Zelanda, insomma sono un po' in ritardo ma oggi siamo andati a Pecore perché era domenica, abbiamo fatto un gran bel giro con soddisfazione, tornando alla partita di ieri se dovessi sintetizzare con poche parole la differenza tra i Lions e gli All Blacks direi che gli All Blacks riescono a tramutare in oro, un pochino come mida, sono i mida della pallovale riescono a tramutare in oro tutto quello che toccano, nel senso che hanno la grande capacità di finalizzare tutte le occasioni che hanno poi cos'altro, tanto parlare sui Lions che non giocano in modo espansivo, tanto parlare su questo eccetera poi sono gli All Blacks invece che martellano davanti nel modo migliore possibile e di loro i primi 5 uomini sono i migliori in campo riescono a fare una partita stratosferica, le due rimesse laterali incredibili, veramente bravissime non solo ed esclusivamente nel gioco della rimessa laterale o nell'assistenza della mischia ordinata ma soprattutto per quello che fanno nei raggruppamenti, nei pick up da raggruppamento e soprattutto con gli offload e i rilanci di giocatori vicini, senza contare di quello che fanno in difesa i primi 5 uomini incredibili, pensate che Cody Taylor che ha marcato la prima meta raccogliendo un pallone che probabilmente se lo dovessi fare io mi viene lasciato ma probabilmente anche tanti ragazzi giovani riuscirebbero a commettere un in avanti ha preso un pallone veramente difficile, è andato a marcare per la soddisfazione di quella persona che ha scommesso sul fatto che sarebbe stato Cody Taylor il primo a marcare su Lions a Nuova Zelanda e ha vinto qualcosa, 177 mila dollari neozelandesi, insomma adesso grosso modo a spanna e saranno attorno ai 90 mila euro, insomma beato lui che ha puntato sul talonatore neozelandese che sappiamo essere la riserva di Colsa che non ha partecipato All Blacks dicevo bravissimi nei primi 5 uomini e poi molto cinici a martellare l'anello di congiunzione tra la difesa delle guardie attorno ai gruppamenti dei Lions e la linea così tanto decantata dalla rush defense dei britannici e sempre in quell'anello di congiunzione, in quello spazio che c'è tra le guardie e la linea che sale sparata, lì andavano con angolo inverso a sbattere ogni volta i neozelandesi, a ricreare raggruppamenti veloci a riproporre sempre il fatto che i Lions dovevano tornare indietro tanti placaggi per i Lions, un possesso pari, circa il 50% ma usato in modo totalmente diverso gigantesco Dag nelle palle alte la strategia nel triangolo allargato degli All Blacks permetteva sempre a Dag di essere lui, magari il giocatore che andava a ricevere questi palloni alti una meta splendida da parte dei Lions splendida che però a mio modo di vedere hanno peccato quando non hanno piazzato sulla 13-8 innanzitutto l'errore non solito ma di Farrell che ha fatto finire il primo tempo a 13-8 e non 13-10 come poteva sembrare come poteva essere se era 13-10 probabilmente quel calcio e punizione di inizio o secondo tempo sarebbe stato piazzato per il 13 pari e mettere il fiato sul collo che è tutto quello che serviva agli All Blacks e invece hanno giocato per la rimessa laterale non sono riusciti a marcare e poi altri due errori il crollo di una mischia ordinata e gli All Blacks chiamano a marcare la seconda meta la prima di Enrique Johanne questo 19enne che ha già marcato due mete due palloni mossi velocemente la meta di Cody Taylor da calcio di punizione giocato velocemente un passaggio, un salto di un centro un pallone mandato fuori più in fretta possibile non perfetto ma con questa grande raccolta di Cody Taylor e poi sulla mischia distrutta e sul vantaggio del calcio di punizione riparte Aaron Smith dopo una pregevole assist non ha fatto in avanti Reid e poi il muovere la palla per Deg che da sopra la testa la dà Enrique Johanne per la marcatura partita estremamente interessante e sarà interessante la seconda anche se sappiamo che magari le possibilità vanno un po' a diminuire a Wellington ci sarà vento potrebbe esserci pioggia eccetera e gli All Blacks mandano maggiormente a memoria quello che già sono all'inizio della loro stagione i Lions sono stanchi la grande possibilità era quella del primo test staremo a vedere cos'altro c'è a dire però una partita piena piena di interessi e di spunti tecnici ma anche ancora una volta dimostrato che le parole i match i mind games fatti durante la settimana precedentemente poi alla fine insomma ognuno cerca di giocare nel modo più efficace possibile e più efficaci di gran lunga sono stati gli All Blacks a presto Paolo